Da luogo dimenticato a spazio dedicato allo sport e all'arte, quella da strada. Si inaugura così la pista di pattinaggio di via Rochester, risorgendo dalle sue generi. E tutto questo grazie al lavoro di squadra di Alessandro Ciulla, Silvia Macaluso, Federica Ciulla, Francesco Macaluso e Mirko Pinto, della Street Factory Eclettica, vincitori del concorso regionale di idee Boom Polmoni Urbani. 8 i mesi necessari per trasformare un luogo che si appresta a diventare un campo sportivo e uno spazio dove dare libero sfogo all'arte e alla creatività. Un grande passo in avanti, che altro non è che la realizzazione soltanto di una parte del progetto, e cioè la prima tranche delle tre da 40.000 euro, finanziata dagli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Quello di Caltese è un polmono urbano che è interessantissimo, si sviluppa su 3.000 metri quadrati, e ingloba sport, arte, tutta quella che è praticamente l'energia e la frizzantezza che poi i giovani ci mettono quando fanno le cose. E quindi diventa paradossalmente laboratorio di idee, di discussione, nel quale fare nascere progetti per migliorare anche la nostra comunità. Questa è una cosa molto bella e finalmente riusciamo davvero a parlare anche una lingua del tutto nuova nella nostra città. Io sono stato proprio stamattina a Favara, la Farm Cultural Park è ormai diventata un punto di riferimento per quella città che ormai conta più di 30.000 visite turistiche in un anno. Perché no? Qui a Caltese il polmono urbano di eclettica potrebbe diventare il punto di riferimento e fra cinque anni magari potremmo avere tanti piccoli polmoni urbani dislocati nel centro storico che cominciano a migliorare la qualità e l'attrattiva anche della nostra città in chiave turistica. Nasce tutto a volte da idee di qualcuno che qualcun altro definisce folli e qualcun altro definisce geni. Secondo me sono delle ottime persone e abbiamo dato in mano i nostri soldi alle persone giuste. Io sono molto contento. Basket, hockey su prato, orti urbani e un mercatino vintage sono state soltanto alcune delle attività da strada che hanno regalato un eclettico sabato sera a tutti gli amanti della street life.